Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News. Questa è l'edizione Milano, vediamo insieme i fatti principali di oggi nel sommario. Area C più care e parcheggi illimitati. Da oggi il ticket per entrare in area C passa dai 5 euro attuali ai 7,50 euro. La sosta a pagamento sarà consentita per una durata massima di due ore. I commercianti dicono no alla ZTL in centro. L'85% dei commercianti del municipio 1 di Milano è contrario a chiudere il centro città al traffico delle auto private. Antonio De Martino sparito sul ghiacciaio potrebbe essere vivo. Lo sciatore, 58 anni, è scomparso giovedì. Le ricerche erano state sospese sabato ma il cellulare sarebbe ancora attivo. Al via il progetto La Luna Nuova, un pronto intervento per l'accoglienza di donne e vittime di violenza. Un servizio attivo 24 ore su 24 anche il sabato e la domenica. Anche l'abbia Tense, protagonista del film, c'è anche domani sulla vita di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum. Una scena del film è stata girata a Fallavecchia. Oggi è stata la giornata di rincari e di novità sul fronte della mobilità a Milano, in particolar modo nel centro di Milano. Stiamo parlando di area C perché è aumentato il ticket di ingresso nella zona a traffico limitato del centro storico di Milano dai 5 euro attuali ai 7,50 euro a partire da oggi. Altre novità ma le vediamo nel servizio. Il rincaro è servito. Un po' come tutto in tempo di inflazione galoppante, anche entrare nel centro di Milano diventa più costoso. Dal 30 ottobre infatti il comune ha rivisto al rialzo il ticket di ingresso sotto le telecamere dei bastioni, da 5 a 7,50 euro. Un aumento del 50% che ha suscitato proteste e polemiche, ma che Palazzo Marino ha voluto per due ordini di ragioni. Innanzitutto gli aspetti della qualità dell'aria e del traffico, sempre più congestionato, nelle vie del centro. Resta da verificare se l'aumento in questione possa effettivamente rappresentare un deterrente o meno, ma questo solo il tempo potrà dirlo. Dall'altra parte c'è il fatto che in quasi 14 anni di vita il ticket di area C non sia mai aumentato, al contrario dei costi di manutenzione dell'infrastruttura. Con questo rincaro il comune conta di mettere a bilancio 15 milioni di euro in più all'anno di entrate. L'aumento del 50% colpisce anche i veicoli di servizio, che pagheranno 4,50 euro invece di 3, e i residenti, che pagheranno 3 euro una volta esauriti i 40 ingressi gratuiti. Da inizio ottobre, inoltre, l'accesso al centro è stato del tutto vietato ai veicoli per trasporto merci e agli autobus che abbiano motorizzazioni diesel Euro 4 o 5 e benzina Euro 2. Ma oltre al rincaro di area C, la rivoluzione della mobilità lanciata da Palazzo Marino tocca anche le regole delle strisce blu. Sempre dal 30 ottobre e sempre all'interno della cerchia dei bastioni, infatti, la sosta a pagamento, in vigore tutti i giorni tra le 8 e le 19, sarà consentita per una durata massima di due ore consecutive, senza possibilità di ulteriori estensioni. In sostanza, l'auto potrà essere lasciata nello stesso posto per non più di due ore, poi scatterà la multa. A suo tempo, illustrando la delibera, il sindaco Beppe Sala aveva spiegato che a Milano c'è molta sosta che chiamiamo parassitaria, ossia quella di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno. Per questo abbiamo deciso di stabilire una limitazione. L'85% dei commercianti del municipio 1 di Milano, ovvero nella zona del quadrilatero della Moda, sono contrari alla chiusura al traffico delle auto private proprio in quella zona. È una stima che ha fatto ConfCommercio. Vediamo. Dopo area C, piste ciclabili, città 30 e turnover dei posti auto in centro di massimo due ore, l'ultima proposta del sindaco di Milano Beppe Sala riguarda la creazione di una ZTL chiusa alle macchine private per il perimetro del quadrilatero della Moda nel centro della città. Tra favorevoli e contrari, a dire di no al provvedimento del primo cittadino, sono la maggior parte dei commercianti. In un nuovo sondaggio di ConfCommercio, con le risposte di 335 attività, in particolare ristorazione e commercio non alimentare nell'area del municipio 1, è così emerso come il 79% di queste attività sia contro la ZTL del quadrilatero, la motivazione principale il danno alle attività commerciali, seguono poi la preoccupazione per un centro meno attrattivo e un peggioramento del traffico alle aree esterne alla zona chiusa alle macchine. Sale anche di più il numero di contrari, se si parla invece della possibilità di allargare la chiusura del traffico a tutto il centro cittadino, con solo il 13% favorevole e il 2% indifferente. I fattori di positività? Il fatto che invece il centro di Milano non perderà attrattività e che il traffico e la qualità dell'area miglioreranno. A mettere d'accordo tutti però vi è sicuramente la necessità di una maggiore regolamentazione del traffico di biciclette e monopattini, un'esigenza evidenziata dal 91% degli operatori. A prendere parola a favore dei commercianti, contrari alla ZTL del centro, il vicepresidente di Confcommercio Milano per la mobilità, Simon Paolo Buongiardino, vietare alle auto private un'ampia fascia del centro, ha sottolineato in una nota, non ha motivazione nemmeno dal punto di vista ambientale, data la sempre maggiore diffusione di mezzi non inquinanti. Chiediamo così all'amministrazione comunale più ascolto e più confronto costruttivo nell'interesse delle imprese e dei cittadini. Dall'amministrazione però a rispondere al no dei commercianti è proprio il primo cittadino che non sembra intenzionato a fermarsi. Sala infatti è sicuro che sulla ZTL alla fine ne trarranno vantaggio tutti, come è già successo per altre zone di Milano. Credo che se avessero fatto un sondaggio del genere all'epoca di Corso Vittorio Emanuele o di Via Dante sarebbe venuto fuori la stessa cosa. Quindi non è che non voglio dare peso, ma conosco la storia, conosco la storia di Milano. In principio c'è di grande prudenza e poi tutti diventano contenti. Credo che sarà anche in questo caso così, però lo vedremo. 10 chilometri di coda si sono formate oggi attorno alle 13 sull'autostrada A4 in direzione di Brescia nel tratto tra Cormano e Monza. Un incidente che ha coinvolto un furgone e un'autovettura ha ridotto il traffico su una sola corsia provocando i 10 chilometri di coda. Nessuna delle persone coinvolte nello scontro ha riportato gravi conseguenze. Cambiamo argomento, andiamo alla cronaca perché ci sarebbe una speranza sull'alpinista Antonio De Marrattino sparito sul ghiacciaio giovedì scorso. Lo sciatore di 58 anni era dato per disperso, però una chiamata arrivata nel cellulare del fratello dell'uomo scomparso riaccende la speranza. Vediamo. Sono riprese nella notte, nonostante il maltempo che interessa l'alta Valtellina, le ricerche di Antonio De Martino, l'operaio di 58 anni e residente a Robecco sul Naviglio, disperso da giovedì scorso sul ghiacciaio dello Stelvio dove si era recato per una vacanza sulle nevi. Domenica, poco dopo le 8 di sera, il fratello ha ricevuto una chiamata dal cellulare del 58enne disperso, una chiamata durata pochi secondi durante i quali si sentivano solo frusci. Poi sono stati spuntati i messaggi che aveva nel frattempo ricevuto dal momento della scomparsa. Si valuta quindi l'ipotesi che l'uomo possa trovarsi ferito in un crepaccio e quindi sono riprese le ricerche che fino a sabato non avevano dato esito e che erano per questo state interrotte. Il cellulare dello sciatore disperso è stato localizzato nella zona del rifugio Livrio a circa 3000 metri di quota, la parte più alta del ghiacciaio dello Stelvio. Venerdì erano intervenuti 11 tecnici della settima delegazione Valtellina-Valchiavenna insieme con 14 tecnici dell'Alto Adige e i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, delle stazioni di Bormio e di Silandro, oltre ai vigili del fuoco e agli elicotteri dell'aiuto alpino. Le operazioni di soccorso erano andate avanti fino a sera senza portare risultati. A dare l'allarme tra giovedì e venerdì era stato proprio l'albergatore presso il quale l'uomo soggiornava. De Martino aveva raggiunto l'Alta Valle da solo ma verso le 20 di giovedì non era poi rientrato in albergo e per questo il proprietario della struttura aveva iniziato a chiedere aiuto. Al momento la sua auto è ancora parcheggiata davanti alle hotel. Le ricerche hanno dovuto scontrarsi in questi giorni anche con le nevicate delle giornate precedenti e con il forte vento che ha alterato le tracce e semicoperto i crepacci. La russa junior verrà convocato dalla procura a Milano per essere interrogato sul caso di violenza sessuale secondo cui lui sarebbe uno degli indagati. Vediamo. Continuano le indagini per il presunto stupro commesso dalla russa junior figlio del presidente del senato ignazio la russa nei confronti di una 22enne il 19 maggio scorso. Ora dopo le audizioni delle testimonianze che si sono chiuse in questi giorni davanti agli investigatori e alla procura di Milano toccherà alla fase degli interrogatori che dovrebbero tenersi tra novembre e dicembre nei quali appunto verrà ascoltato Leonardo Apash la russa e l'amico di Jay Tommaso Gilardoni entrambi accusati di violenza sessuale. Le testimonianze raccolte anche sulla base delle analisi di chat, messaggi e immagini estrapolate dai due telefoni di Leonardo Apash la russa sono così servite per chiarire i particolari di quella notte tra il 18 e il 19 maggio in cui la 22enne stando alla sua denuncia dopo aver bevuto un drink che la russa junior le avrebbe offerto si sarebbe svegliata nuda nel letto del 21enne senza ricordare nulla. La giovane ha anche raccontato che una volta svegli il giovane la russa le avrebbe detto che aveva avuto un rapporto sia con lui che con l'amico di Jay con cui erano tornati insieme a casa. Da queste accuse però Apash la russa si è sempre difeso parlando di rapporti consenzienti. Uno dei punti dell'indagine sarà così proprio la verifica sul consenso o meno e quindi se la giovane fosse in stato di incoscienza. La procura potrebbe disporre una consulenza esaminando gli esiti degli accertamenti della clinica Mangiagalli che avevano rivelato l'assunzione da parte della ragazza di cocaina, cannabis e benzodiazepine. Inoltre per l'acquisizione dei tabulati del telefono di la russa junior la procura attraverso il GIP dovrebbe chiedere nei prossimi giorni l'autorizzazione a procedere al senato poiché la sim è intestata allo studio regale di la russa. Intanto nei giorni scorsi è stato ascoltato come teste tra gli altri anche Tommaso Inzaghi, figlio dell'allenatore dell'Inter Simone e della showgirl Alessia Marcuzzi. Inzaghi junior che conosce il figlio del presidente del senato era presente infatti alla serata nella discoteca Apophis. Ammonterebbe a 700 mila euro il bottino di un furto denunciato in un albergo di lusso nel quadrilatero della moda di Milano. La vittima sarebbe una donna di 77 anni residente nel principato di Monaco che non avrebbe più ritrovato nella sua stanza alcuni gioielli. Il furto sarebbe stato denunciato con qualche giorno di ritardo perché la donna avrebbe prima fatto verificare che i preziosi non si trovassero nella sua abitazione e le circostanze poi si sono verificate sono in fase di verifica da parte delle forze dell'ordine. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina a Milano c'è stato un convegno sulla mafia dove è emerso un dato davvero interessante. A Milano pensate sono 250 i beni confiscati alla mafia e sono in aumento. Vediamo. Sono 249 i beni confiscati alla mafia a Milano per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Sono i numeri resi noti dall'assessore al welfare comunale Lamberto Bertolè durante l'evento che si è tenuto al teatro Franco Parenti di Via Pierlombardo in merito al festival dei beni confiscati che si concluderà il 2 di novembre. Secondo i dati la maggior parte di questi beni confiscati sono appartamenti, seguono poi box, locali commerciali, magazzini, terreni e unità DMM di edilizia popolare. Il municipio con il maggior numero di beni confiscati è il municipio 3 dove sono 42, poi c'è il municipio 9 seguito dal municipio 2, l'ultimo è il municipio 1 nel centro con solo 6 unità confiscate. I beni confiscati a Milano ormai sono quasi 250 in continuo aumento, diffusi un po' in tutti i municipi della città, beni molto diversi, sono appartamenti, box, terreni, esercizi commerciali, una pluralità di luoghi e di spazi che ci conferma quanto la mafia sia radicata e presente nel nostro territorio da molti anni. La Lombardia è la quinta regione italiana per il numero di beni confiscati. L'obiettivo di questo festival è quindi far conoscere la presenza dei beni e quindi la presenza mafiosa nel nostro territorio ma anche dare visibilità alla vittoria dello Stato che grazie a questa straordinaria legge consente di colpire i mafiosi non solo personalmente e penalmente ma anche dal punto di vista del loro patrimonio dando più forza al sistema di welfare perché noi abbiamo luoghi e spazi da assegnare per dare risposte ai bisogni sociali delle persone ma anche per promuovere l'economia civile quindi un'economia non solo finalizzata al profitto ma allo sviluppo della persona, dei contesti, delle comunità e questa è una cosa molto importante per ovviamente togliere ossigeno, alimento alle mafie. Tra tutti i beni confiscati 138 sono affidati a denti del terzo settore per progetti di residenzialità, ospitalità, progetti nei quartieri, di diritti e di inclusione sociale e inerenti alla cultura della salute. Il bene confiscato più grande da Lombardia è Casa Chiara Valle quindi periferia della città è un luogo abitato da un mafioso che adesso è un luogo di accoglienza straordinario. Poi abbiamo in Centra Milano, in via Curtatone, un ex studio legale confiscato alla fine degli anni 90 quindi uno dei primi beni confiscati a Milano che oggi è uno spazio che promuove cultura della legalità e aggregazione per i giovani e quindi questa c'è l'idea di come un luogo dove si facevano profitti, dove si coprivano i traffici, dove si sostenevano i mafiosi adesso è un luogo che promuove cultura aperto a tutto il territorio. Al via il progetto Luna Nuova in Lombardia, un pronto intervento per l'accoglienza delle donne vittime di violenza aperto 24 ore su 24 tutti i giorni. In Italia da gennaio ad oggi sono stati commessi 96 femminicidi, 77 di questi sono avvenuti in famiglia, numeri che fanno raggelare il sangue e che raccontano di un paese che ha ancora tanta strada da fare su questo fronte e tra i primi passi da compiere c'è la prevenzione perseguibile solo con l'attivazione di sentinelle sul territorio, presidi medici e psicologici che possano intercettare le situazioni di potenziale pericolo e disagio e intervenire per tempo. È questo il senso del progetto La Luna Nuova, che lavora per dare accoglienza alle donne vittime di violenza, con o senza figli, e che nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Telefono Donna e la SST, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. La Luna Nuova è un servizio che inauguriamo oggi, un servizio che viene sostenuto da Regione Lombardia, con apposito bando, intende garantire il pronto intervento a tutte le donne e i loro figli, che si presentano ai pronti soccorsi dell'Ospedale Niguarda e degli altri PS afferenti la TS Città Metropolitana, per garantire un'accoglienza immediata, per evitare che rientrino a loro domicilio, laddove non abbiano spazi di sicurezza e di copertura ideale, e per evitare che vengano anche, quando va bene, ricoverate in attesa che si trovi una collocazione ideale. Molto spesso, purtroppo, i maltrattamenti portano ad arrivare a livello ospedaliero, lì ci vuole la capacità dell'operatore di intercettare il problema, perché alcune volte sono manifeste, altre volte veramente sono simulate. A questo punto parte un po' la sinergia con Telefono Donna, con le loro operatrici, che inquadrano il problema, si prendono un carico della donna e anche eventualmente dei minori presenti, e poi inizia l'iter, che è di primo soccorso nel momento in cui c'è aspetto emergente del pronto soccorso, e poi continua rispetto ad accogliere appunto le loro case di rifugio, dove comunque si riesce ad avere un'assistenza più strutturata. Il protocollo sperimentale su cui si fonda il progetto ha coinvolto anche ATS Città Metropolitana di Milano, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, ricevendo anche il supporto del Comune di Milano e degli ordini professionali degli avvocati, degli assistenti sociali e dei farmacisti, perché la lotta alla violenza di genere si può vincere soltanto se si è in tanti a combatterla. I danni del maltempo a Trezzano sul Naviglio non hanno ostacolato il bilancio partecipativo. 100.000 euro per i cittadini. Vediamo. È un tesoretto di 100.000 euro quello messo a disposizione a Trezzano sul Naviglio per il bilancio partecipativo 2023, un'annata in cui le casse del Comune hanno dovuto faticare non poco per far quadrare i conti fra costi dell'energia in aumento in inverno e interventi d'emergenza in estate, per rispondere ai danni provocati dal maltempo che a Trezzano ha assunto la forma di vere e proprie calamità. Ora è tempo per i cittadini di far pervenire le proprie proposte su come spendere questi 100.000 euro prima del voto in programma per la metà di gennaio del 2024. Effettivamente il bilancio è sempre un documento difficile da redigere. Poi alla luce dei gravi eventi atmosferici che si sono sviluppati quest'anno, sicuramente la disponibilità delle risorse si riduce. Però sotto questo profilo siamo stati lungimiranti perché sin dall'anno scorso abbiamo programmato anche per il 2024 e il 2025 l'iniziativa del bilancio partecipativo e vorremmo mantenere l'impegno ed è quello che stiamo facendo perché comunque le emergenze non devono andare a discapito della partecipazione finché è possibile, chiaramente. E penso che siamo incanalati sulla strada giusta. La solidità del bilancio ci permette di fare l'uno e l'altro e quindi di questo siamo soddisfatti, siamo sicuri di incrociare la domanda della città anche in questa forma. Le proposte possono sopraggiungere da singoli cittadini o associazioni e dovranno riferirsi a una delle tre aree tematiche prescelte dal Comune giovani e sport, socialità e volontariato oppure lavori pubblici, ambiente e mobilità. Il lavoro di questi anni come amministrazione comunale ha portato il bilancio comunale del Comune di Trezzano sul Naviglio ad avere risultati molto importanti. Abbiamo recuperato milioni di euro sull'evasione fiscale e questo ci consente di affrontare tutte le problematiche che si presentano come le ultime tempeste estive e i danni relativi nel miglior modo possibile ma nello stesso tempo chiediamo sempre aiuto alle istituzioni superiori perché è evidente che dobbiamo detrarre risorse per le emergenze che invece erano destinate a importanti programmi di sviluppo della nostra comunità. Tra questi abbiamo previsto 100.000 euro per il bilancio partecipativo per fare in modo di avere spunti e idee proposte per il territorio di Trezzano sul Naviglio appunto dai cittadini, dalle associazioni, dai comitati di quartiere e cominciamo questo ITER con la presentazione poi ci saranno le idee che verranno votate dai cittadini stessi perciò un bel impegno che ci tiene insieme per rendere più vive e partecipata la nostra comunità. E questa mattina a Milano c'è stata una lezione dedicata, una lezione spettacolo dedicata a Giorgio Gabber, vediamo. Cantava le ipocrisie del nostro mondo, le storture della nostra società e l'importanza di un pensiero libero. Giorgio Gabber è scomparso quasi 21 anni fa, il primo gennaio del 2003, ma le sue parole, le sue canzoni, rimangono un patrimonio non solo culturale, ma anche e soprattutto intellettuale. Anche per questo il Consiglio regionale ha voluto organizzare una lezione spettacolo per ricordarlo e per farlo conoscere ai più giovani. Giorgio Gabber, cosa dire, un visionario, una persona diretta, inventò il teatro canzone, saranno proiettati qui, lo sono anche in questo momento video, emozionali, su come sapeva agitare le folle, il pubblico, con la sua voce, i suoi toni diretti. Insomma, la figura di Gabber è una figura che ricordiamo ancora oggi, ogni anno la ricordiamo in questo auditorium che porta appunto il suo nome, insomma, un grande milanese, un grande lombardo. Ad organizzare l'evento gratuito è stata la Fondazione Gabber e ha visto tra il pubblico la presenza di quasi 200 tra alunni e professori di 5 scuole superiori di Pavia, Seriate, Carbagnate Milanese, Busto Arsizio e Milano. Due ore di esibizioni e ricordi personali e video d'epoca per ripercorrere i momenti salienti della vita del signor G e del suo pensiero, dalle diseguaglianze sociali alle condizioni di vita delle grandi città industriali, dalla libertà e l'impegno politico alla forza interiore delle idee. Crediamo, confortati dalle istituzioni, come per esempio il Consiglio regionale, che Gabber sia ormai riconosciuto come un classico della cultura italiana. Per cui, in quanto classico, noi come Fondazione dobbiamo fare tutto quello che è possibile fare per poterlo proporre al pubblico e dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi. E quindi, quando si avvicinano, avere un repertorio a disposizione dei ragazzi, libri, video, registrazioni audio e quant'altro. Crediamo che possa essere importante perché, come tutti i classici della cultura italiana, può essere una fonte importante di nutrimento artistico e intellettuale. E' stato completato il restauro dello scurolo di San Carlo nel Duomo di Milano. A darne notizia, dopo due anni di lavori e della veneranda fabbrica del Duomo, sono state sistemate le parti rovinate e pericolanti in legno, quelle in argento e la tappezzeria. Il luogo che ospita le spoglie di San Carlo Borromeo, copatrono dell'Arcidiocesi di Milano, tornerà ad essere aperto al pubblico a partire da sabato 11 novembre. La cerimonia che segnerà la fine dei lavori che si terrà invece il 3 novembre con il Monsignor Delpini nella ricorrenza di San Carlo. Invece il comune di Fallavecchia è stato protagonista di una delle scene del film ispirate alla vita di Ennio Doris. Anche l'Abbiatense è protagonista del film. C'è anche domani sulla vita di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum. Le riprese hanno avuto luogo anche a Fallavecchia, frazione di Morimondo, e per la realizzazione del set sono stati presi in prestito alcuni attrezzi d'epoca conservati al Museo Agricolo di Albairate. Il film, come confermato dalla produzione, che ha girato le scene a Fallavecchia, racconta la storia di Ennio Doris da quando era bambino, fino a quando affrontò il crack delle borse, che portò nel 2008 al fallimento della banca americana Lehman Brothers. Si racconterà quel pezzo in particolare della storia di Ennio Doris, quindi, quando è come decise nel 2008 di difendere i propri correntisti che avevano investito in Lehman Brothers con propri soldi. Su quell'evento si ripercuote tutta la storia della vita del fondatore di Banca Mediolanum, dato che lui arrivava da umili origini, era nato in Veneto, da una famiglia dove il padre lavorava nelle campagne e al mercato del bestiame. Per questo si è cercato di ricreare il mercato come fosse stato quello di Tombolo, il paese natale di Ennio Doris. Nella scena di Fallavecchia, in particolare, viene ricreata una compravendita del bestiame in un momento in cui il fondatore di Banca Mediolanum aveva circa 10 anni. Questa è la nostra ultima notizia. Io vi lascio le previsioni del meteo, tra poco l'edizione Pavia. Io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.